Hanno finito i vaccini. Dalle 10 e mezza che sono qui, perché si sono finiti questi vaccini? Perché non sono arrivati prima? E basta. Non sono organizzati bene. Già, c'è chi è arrivato alle 10.30 oggi al centro vaccinale Monaldi e alle 12.30 non aveva ancora alzato la manica per l'iniezione prenotata. A tre giorni dalla chiusura del punto vaccinale della celletta è stata un'altra giornata molto complicata per il Monaldi. Un ritardo nei rifornimenti delle fiale da recapitare al punto vaccinale ha infatti creato file, ingorghi e attese. Perché poco prima delle 10 sono terminati i sieri disponibili e il trasporto dei rifornimenti è arrivato attorno alle 11.15, cioè diverse ore dopo la tabella di marcia che la prevedeva all'orario d'apertura del punto vaccinale. Va da sé che ogni orario d'appuntamento che avevano gli ultraottantenni in fila è saltato di diverse ore. Personale sanitario e protezione civile non hanno potuto far altro che allargare le braccia di fronte ad un disservizio estraneo alle loro competenze. C'è chi si è prenotato alla vaccinazione e si è ritrovato 100 persone che avevano la precedenza. Inevitabile che c'è chi abbia aspettato un paio d'ore prima di riuscire a vaccinarsi. Sostanzialmente intorno alle 10 sono venuti a mancare i vaccini e hanno tardato quasi un'ora per arrivare. Si ripete la storia che c'è stata già il 2 marzo, quando hanno tardato addirittura di due ore e mezza. La disorganizzazione è veramente una cosa intollerabile, inammissibile, inaccettabile, perché i tempi si sanno che non ci siano i vaccini pronti nel luogo dove avviene la vaccinazione. È una cosa vergognosa. Bisognerebbe che i dirigenti, come succede in Lombardia, che Fontana gli ha fatti dimettere, vengano fatti dimettere e venga pubblicato il nome e cognome di queste persone incapaci e incompetenti, che devono essere cacciate in malo modo, perché non è tollerabile una disorganizzazione a questo livello. E si è ripetuta anche altre volte, perché è in modo alternato, perché dei giorni funzionano e dei giorni non funzionano. Questo vuol dire che c'è proprio la disorganizzazione e l'incompetenza, sia a basso livello sia ad alto livello. E la cosa non può continuare così. È veramente una cosa indegna e indecorosa. Disagi per una campagna vaccinale che aspetta di allargarsi anche ad altre categorie. Un'attesa ormai agli sgoccioli, secondo il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, intervenuto oggi ad Ancona. Credo che questa sera, Massimo Domani, sarà online un sito che darà tutte le spiegazioni, con gli slot che noi potremo mettere a disposizione per le prenotazioni e con le diverse e varie opportunità di vaccinazione. Come avverranno con i medici di medicina generale, con i punti vaccinali, con le imprese. Ci tengo a sottolineare che le imprese non toglieranno i vaccini ai fragili o ai disabili. Quando ci sarà distribuzione di un numero di vaccini importanti, come previsto nel mese di aprile, invece di tenerli nelle nostre strutture, cercheremo di distribuirli più velocemente a una rete vaccinale che potrà così metterci in condizione di rendere immune prima possibile una parte importante della popolazione marchiciana. Il governo ci dice che i vaccini arriveranno in maniera abbondante già dalla fine di questo mese e dalla metà del prossimo mese di aprile.